salve a tutti ragazzi bentornati a un altro episodio di pochentornament siamo all'episodio numero 5 e oggi finiremo la lega blu si lo so avevo detto tecnicamente che avrei fatto 4 episodi della lega blu ma no effettivamente taglierò un sacco perché a quanto pare è molto noioso vedere uno che affronta le stesse sfide con lo stesso pokemon e quindi vedere un sacco di sfide uguali è molto noioso sì esattamente quindi ho tagliato ho tenuto giusto le parti più interessanti le sfide che poi portano a una svolta nella trama e quindi dovevo per forza mostrare non potevo mettere solamente la parte di trama alla fine quindi sti cazzi mettiamo una sfida interno dunque come ho detto in questa parte termineremo la lega blu che poi come ho detto ho tagliato un sacco ma diciamo che comunque non ci siamo persi niente una ventina di minuti per fare un sacco di sfide di posizioni diciamo che ci ho messo comunque due giorni perché off screen sotto consiglio del nostro caro tonks allenavo comunque garchomp infatti all'inizio visto che avevo solamente 20 lotte e adesso ne ho un centinaio mentre sto narrando adesso esattamente un centinaio di vittorici vittorie parte vittorio ma un centinario di sfide giusto per allenare un pochettino perché dopo un po' ho cominciato di ho notato di cominciare ad essere un pochettino in difficoltà nelle sfide quindi onde evitare problemi diciamo che ho dovuto per forza allenarlo ma non è nemmeno così male lasci il bio attaccato ti metti sul letto mentre in sala guardano cose stupide come l'isola dei famosi e intanto leni garchomp si poi registri dopo ma non importa almeno sei più forte difatti inizialmente cioè alla fine di questi video dovrei tecnicamente avere tutto a 10 adesso non alla parte proprio finale di sfide ma attacco difesa risonanza e strategia le ho tutte al 10 poi pian pianino volevo aumentare prima di fare la prossima lega la lega rossa portarle tutte a 20 perché altrimenti penso di essere un pochettino in difficoltà quindi si allenerò un pochettino la squadra cioè il pokemon cioè garchomp in poche parole guardate adesso è tutto solo a 4 ma voglio anche soprattutto aumentare attacco e difese perché penso che siano anche quelli molto importanti da aumentare e vi consiglio di fare o le lotte in singolo per livellare oppure fare le lotte libere sempre nelle leghe e inizialmente infatti facevo così facevo la lotta libera nella lega blu quando non registravo e quindi mi sono allenato in quel modo lì ed è molto facile infatti potete vedere che ho tipo tagliato un pezzo adesso siamo già in un altro punto della storia che non è storia ma è un altro punto non è come quello di prima che erano allora tecnicamente ho messo insieme 6 video qui che dalla durata di un quarto d'ora testa quindi era inutile mettere 15,45 un'ora e mezza di pokken per vedere sfide su sfide diciamo no proprio no assolutamente no vietato theo of limits quindi onde evitare noie e non visual che poi non mi arrivano i soldi se non visualizzate cattivi ho deciso di evitare di fare partite lunghe in tutto siamo contro questa Chloe ovviamente questa sfida come ho detto ci sarà perché dopo ci sarà un breve dialogo di storia tanto il caffè così buono oh ragazzi ecco che comincia il secondo turno contro questo webile adesso ho imparato un po' meglio a parare però è vero una cosa è vera guard jump è abbastanza lento oppure sono i comandi che sono lenti perché noto che quando attacco e premo il tasto per parare non para cioè para molto dopo quindi non so se sia un ritardo di comandi oppure è fatto apposta così quindi ci penserò tanto mega si mega webile tanto webile utilizza l'ultra resonanza e adesso anche io diventiamo mega garchomp e attacchiamo questo povero mewile mettendolo definitivamente ko quindi una volta aver fatto questo sconfiggiamo il povero mewile sconfiggiamo Chloe e noi vinciamo la sfida adesso vediamo se per caso ho anche lasciato cioè vi faccio vedere se sono già aumentato di tanto qui si penso di si comunque salgo con livellabilità 20 no non sono aumentato di tanto potete vedere vabbè non importa adesso aumento sempre di uno in uno io e li faccio tutti però penso più avanti come vi ho detto poco fa di aumentare abbastanza attacco difesa e penso anche in risonanza comunque devo allenarmi di più è un'ottima risonanza col tuo partner forse tu potresti sconfiggere quel mewtwo oscuro sei qualcosa di quello strano mewtwo? già non molto tempo fa mi è attaccata proprio qui all'improvviso mi sono ritrovata in un posto tutto strano lo abbiamo affrontato ma noi gli abbiamo fatto un graffio hanno sparato un'ultra risonanza e bam annientati dopo che la lotta è finita sono scomparsi sempre restando in ultra risonanza poi prima ancora di rendermene conto ero di nuovo qui a dire la verità non ho ancora capito cosa è successo le cose sono andate in un altro modo eh già purtroppo è così perché non clicco? ah ok quando abbiamo lottato noi dopo la lotta mewtwo è uscito dall'ultra risonanza mi pare sia volato via dopo aver acquisito il suo aspetto normale no? quale sarà il perché di quella differenza? e ora non credo che un pokemon sfidi qualcuno a lottare così di punto in bianco non conosci mi trovo allora sarà per colpa di quella pietra sulla spalla? oppure a che fare con quella ragazza? e niente abbiamo comunque finito anche con questo turno e qua tipo mi è venuta penso il nervosismo più totale dopo le lotte e poi lo vedremo comunque a quanto pare questo metodo oscuro ci sfiderà alla fine di ogni lega non vorrei dire stupidaggini ma così sembra perché spoiler dei spoiler ci sfiderà anche questa volta il problema è poi lo vedremo dopo che è una cosa che mi sono incazzato a bestia proprio e sì lo noteremo dopo perché adesso è inutile parlare di cose che non ho ancora fatto esatto parliamo non parliamo a sproposito e cominciamo la lotta che tanto poi penso di tagliare o forse no ma lo scopriremo insieme perché non so manco io che cosa taglio ahah diciamo che ho il miglior editing d'Italia nel 2016 comunque sia finita la trama cioè la storia normale tecnicamente e anche finite le leghe penso di cominciare a fare delle wifi battle cioè battaglia online e magari completare gli obiettivi rimanenti di questo gioco perché sì voglio completare tutti gli obiettivi di questo gioco esatto perché ne vale la pena e diciamo che a volte con i giochi con cui mi fisso gli achievement voglio prenderli tutti ho anche obiettivi uguali chiamiamoli come vogliamo facciamo gli italiani chiamiamoli obiettivi intanto guardate quel Electabuzz là tranquillo serenissimo si era un attimo impallato il programma di registrazione non so se l'avete notato ma penso di sì mi sono spaventato perché mentre stavo narrando ho sentito questo rumore strano ho detto cazzo mi è crashato tutto e mi era venuta ansia tanta ansia non lo fare mai più comunque sono felice di sconfiggere questo Pikachu perché odio quando mettono una differenza così di altezza nei personaggi mi dà veramente fastidio non riuscire a colpire uno dei miei avversari perché è più basso dannazione bravo Garchomp tu sì che mi dai sempre soddisfazioni grazie grazie comunque adesso abbiamo finito anche questa serie di 5 sfide e quindi ora potremmo passare tra virgolette il turno e aumentare di posizione da posizione 32 arriveremo a posizione vediamo un po' posizione 22 oh yeah quindi abbiamo fatto ben 10 posizioni con 5 lotte il che però non ci aiuta ancora ad arrivare all'interno del torneo dunque a questo punto dove magicamente ritorno in una sfida dove metto K.O. Kokomi e il suo Charizard noteremo la mia potenza sovromana il verso di Garchomp mi spiazza perché sono abituato a sentire il verso nel gioco e non quel come se avessi tipo della gastrite ma non ci pensiamo più di tanto ok nel frattempo potete vedere che sono livello abilità 42 quindi sono andato avanti molto ma tanto basta anche solamente mezz'oretta per fare abbastanza livelli e in questo punto sono già al torneo alla finale del torneo per decidere che è il primo posto nella Lega Blu classe C una cosa importante è che mentre salivo di livelli tra virgolette però di classifica praticamente dal 22 sono passato al 16 se non sbaglio dal 16 al 9 esatto poi ho dovuto farmi altre 5 sfide per poter salire di classifica e niente una volta che l'ho fatto sono arrivato al livello 6 perché continui a dire livello 6 sono arrivato in sesta posizione quindi sono potuto entrare nel torneo e questa è già la finale dove siamo contro Ceglie contro il suo Garchomp verde che ha una ha un arcobaleno sulla gamba così a caso comunque non mi dire cosa devo fare che mi sono rimasti solo metà dei punti salute non mi rompere le balle io so cosa sto facendo perché sono io tu sei mio sono mio lo so io lo so Dio scusate comunque il supporto è arrivato al livello massimo Wismicot difendici e ci ridà anche un po' di vita tra poco sta per arrivare il punto dove penso di aver smadonnato di più in vita mia non vi preoccupate lo scopriremo intanto ho vinto il primo turno contro questo Garchomp e ora arriverà il secondo guarda sembra quando lo mettono in quella posizione Garchomp sembra tristissimo sembra che non veda la felicità da tempo innato ma vabbè ok ecco Garchomp che intanto mi aumenta la risonanza cerco di attaccare ma intanto ci facciamo gli stessi attacchi ok ora la risonanza è al massimo e posso tranquillamente utilizzare il super attacco che l'abbiamo utilizzato entrambi cioè a sto punto so che il super attacco non lo metterà K ma almeno gli toglierà abbastanza salute da comunque darci un buon vantaggio infatti ora è già 303 punti salute quindi attacchiamolo evitiamo gli attacchi inoltre dato che siamo tutti e due in ultra risonanza potrò attaccarlo tranquillamente difatti tutti i pokemon che sono in ultra risonanza se te non lo sei diciamo che non gli fai danno o almeno non lo fai tentennare se non fai un colpo forte e quindi puoi colpirlo ma lui se ne frega quindi abbiamo sconfitto quindi il nostro avversario e a sto punto abbiamo vinto anche un 5 stelle finalmente non avevo ancora ottenuto un match a 5 stelle e intanto salgo a livello abilità 43 olè e mi aumento al livello 11 no forse non mi ricordo cosa aumenta ecco infatti aumentavo l'attacco perché come ho detto voglio l'attacco e quindi prima momento l'attacco meglio è quindi li porterò tutti al 20 e poi comincerò anche la lega rossa hai vinto la lega blu vai alla premiazione del torneo yeah quindi siamo arrivati i primi seconda è Celia con Garchomp e la terza e Kokomi con Charizard ho ottenuto 2 milioni di pokemonete ho ottenuto Raceram e Cresselia come pokemon supporto bellissimi penso di utilizzarli perché avevo letto che sono tipo utilissimi ho ottenuto del supporto che non ho visto e poi dei vestiti per Nia la mia schiava cambierò i vestiti solo per dire che lei è la mia schiava grande è stracciato tutti nella lega blu c'erano lottatori molto abili ma tu hai sbaragliato la concorrenza adesso è il momento di affrontare l'esame di qualificazione per passare alla classe B quindi ci rimane l'esame di qualificazione contro il boss che è Keith con Suicune e vedremo chi è il più forte tra i due ho visto lottare a Telto e a Pokémon chissà se sei abbastanza forte ad avanzare in classe B tu cosa dici fratello se sono arrivato fin qui il mio esame non è una passeggiata dovrei mettercela tutta da subito ok e quindi ecco a voi l'esame di qualificazione Theo con Garchon contro Keith con Saikun io come supporto utilizzerò sempre i soliti Wismicot e Jiraki stadio di Ferrum è sempre piena di spettatori appassionati qua non dice però le vittorie e le lotte fatte dal capo tra virgolette della lega ma non importa ok qua ho sbagliato ho messo Jiraki come supporto quindi ho fatto subito la stupidaggine e parte subito la sfida partiamo subito in quarta ad attaccare Saikun così almeno da poterlo subito mettere capo ma si para si para bene guardate ho avuto veramente paura di poter perdere questa partita perché non riuscivo ad attaccare decentemente continuava a parare e poi lui continuava ad attaccarmi poi alla fine ci ho preso la mano ovviamente ho cominciato ad andare avanti perché io sono forte e voi che cacchio ci fa l'Auntropius cosa fa guarda e c'è Magneton che passa tranquillo ma che bello che è ah no aspetta un Magnet con una telecamera scusate ma pensiamo alla partita guardate come intanto ho già pochissimi PS mentre lui continua a parare penso di essermi cominciato ad arrabbiare quando non riuscivo a far andare a segno un colpo infatti penso che in una notte mi sono nubificato perché non riuscivo a far danni e sto cercando di aumentarmi al massimo la risonanza tanto il supporto al massimo ma abbiamo messo K.O. Saikon e quindi il primo turno ce lo siamo passati tranquillamente beh tranquillamente è un po' troppo da dire ma sia stati almeno capaci di vincere quindi non ci lamentiamo adesso c'è il secondo turno dove utilizzo l'ultra attacco per potergli già togliere un bel po' di vita cos'è almeno mi sono avvantaggiato un pochettino anche con i punti salute miei e con quelli suoi bam quindi già a 300 e passa di salute cominciamo ad attaccare ma anche lui utilizza l'ultra risonanza dobbiamo cercare di evitare che utilizzi l'ultra attacco cerchiamo di colpirlo il prima possibile prima di perdere anche noi l'ultra risonanza così almeno riusciremo ecco se non sbaglio l'ha persa anche lui ma intanto io metto wismicot in campo dove almeno mi restituisce anche un pochettino di salute continuiamo ad attaccare che gli rimangono 25 un punto salute ok colpettino easy easy che lo mette KO vuole guarda come il gargium distrugge il terreno ma il terreno è ancora intatto che bello meraviglioso direi 4 stelle nella sfida 34.899 poke monete ottenute abilità aumentata salgo il livello di abilità 44 e aumentiamo la difesa ho il bonus fortuna che ho vinto un cerotto rosa perché non lo so comunque abbiamo sbloccato l'obiettivo sconfitto del maestro di classe c e adesso saliamo in classe b a quanto pare tolto pokemon avete requisiti per avanzare di classe bene hai passato l'esame ti ammetto la classe b e quindi noi adesso dalla classe c saliremo la classe b e quindi dalla classe si dalla lega blu alla lega rossa bene la prossima è la lega rossa ci sono delle nuove squadre su porto puoi cambiare nella sezione le tue città e lo faremo dopo perché adesso posso anche gustarmi un po' di storia e adesso vedremo intanto abbiamo tenuto patch rizzo e magicarp come squadra di supporto mismanage e nine tails e roto metogekiss abbiamo ottenuto abbastanza roba comunque a questo punto che forza non sarei mica più forte più forte di me adesso chi ne dici di che sto sorbendo tutta l'energia di risonanza era vostro il potere che ho sentito mi è sembrato diverso da prima mi tu quella pietra assorbe l'energia di risonanza mi spiace ma fatti forza ed è qui che è stato il declino c'è porca eva di nuovo contro mito oscuro e spoiler ho perso e spoiler ho perso da demente da imbecille adesso scoprirete come perché gli ho anche tenuto testa per un bel po' nella sfida anzi quasi fino alla fine che gli è rimasto pochissimo e sono riuscito a farmi sconfiggere come un imbecille quindi caricamento parte la sfida contro Mewtwo Mewtwo oscuro utilizzerò Wismicot come supporto anche se purtroppo non posso fare nient'altro a mille di vita di nuovo ok mi colpisce ma alla fine riesco a colpirlo anch'io e comincio a fare parecchi danni non è che solo lui mi attacca no guardate adesso mi sono allenato Mewtwo hai capito potrei essere OP ma chi se ne frega ok siamo già 432 punti salute per lui praticamente non ha più vita ha già pochissima vita ma lui con due colpi mi toglie tipo 100 punti devo aumentarmi assolutamente la difesa contro di lui e devo assolutamente far si che mi arrivi l'ultra risonanza subito lui si tra virgolette mega evolve cioè utilizza l'ultra risonanza anzi è già mega evoluto e io posso utilizzare l'attacco l'ultra attacco pensavo di togliergli abbastanza ed è così guardiamo insieme l'ultra attacco va più che a segno gli toglie un sacco rimane con 244 di vita e la sfida non è ancora finita perché io ancora 432 utilizzo anche Wismicot per recuperarne un po' niente lui comincia a farmi colpi su colpi su colpi su combo non posso essere così sfigato da aver perso così e invece ragazzi purtroppo così è stato e vi giuro oggi che registro è il 20 marzo quindi dovrebbe essere tecnicamente la chiamano domenica delle palme e ho finito la sfida e penso che il prete si sia messo a piangere da quanto ho bestemmiato dalla finestra ma pesantemente proprio ho fatto un elenco completo di tutti i santi presenti nel mondo quindi niente da fare mi ha sconfitto di nuovo la sfida finisce così e niente ma tranquillo è inutile che fai quella faccia tanto ti batterò anch'io non ti credere quando poi sarò tipo 800 livelli sopra di te vediamo fai il furbo fa il fenomeno adesso hai vinto di 10 punti ha chiuso il nuovo con ultra risonanza e purtroppo niente non possiamo farci niente abbiamo perso così e vabbè ragazzi termino qui l'episodio noi ci vediamo alla prossima parte dove cominceremo con la lega rossa quindi con la classe B ci rivediamo alla prossima parte quindi un saluto a Teo seguitemi nei link un bel mi piace un commento un'iscrizione e niente al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.